La vita eterna è certa perché noi stiamo vedendo che essa è esclusa, ma bisogna tenere presente che noi stiamo vedendo l'azione uguale e contraria che è relativa all'azione vera. Di conseguenza l'azione vera è quella che dinamicamente appare uguale e contraria. Ora cerco di farmi capire se tra due osservatori c'è la stessa ruota che gira e che se si poggiasse per terra con quella rotazione andrebbe da una parte sola con quella rotazione, mentre invece andrebbe dall'altra parte se fosse appesa. Noi siamo nella condizione in cui vedendo un orologio messo in mezzo a noi, mentre io ne vedo il moto orario delle lancette e praticamente dico vedo il tempo così come viaggia, chi è di fronte a me vede il moto anti-orario e quindi nelle modalità di un tempo che va a ritroso. Però la ruota se poggia per terra non è che vada da due parti. Va da una parte sola, perché c'è una parte che è quella che è in azione e c'è quell'altra che è relativa a quella che è in azione e che si vede in modo uguale e contrario nella reazione. Noi stiamo vedendo la reazione, ossia nel modo uguale e contrario alla vera azione. di conseguenza se c'è da capire che un verso è un vero avanti o un vero indietro, ossia che questa ruota poggiata chiaramente tra noi sta andando da una parte o dall'altra e può andare solo da una parte, se è nelle stesse condizioni, ossia se si appoggia, ebbene sta andando verso il passato, non verso il futuro. Quindi se il vero verso è quello della massa che si ammassa in un unico punto, massa magnetica per magnetismo, dell'antimateria che viaggia anche l'antimateria all'opposto della materia e di conseguenza si ammassa anch'essa. Se questa è la verità del moto centripeto costretto dalla gravitazione universale, ma noi vediamo la fuga delle galassie, stiamo vedendo nel modo esattamente uguale e contrario al vero. di conseguenza se noi vediamo una vita mortale, possiamo avere la certezza di una vita eterna, proprio una certezza che deriva dal fatto che vediamo nel modo uguale e contrario.